ciao cullai e benvenuti in questo nuovo video dei brothers io sono ricchi e oggi siamo ritornati qua con un deck troll ovvero il deck di magikarp prima di iniziare il video però vi ricordo di lasciare un mi piace un commento e di seguirmi su instagram dove vi terrò aggiornati sulle prossime live e video domenica prossima ci sarà una live da sei ore dove faremo giochi non solo pokemon ma anche altre cose quindi vi voglio in tanti detto questo partiamo subito con la spiegazione del deck di magikarp allora praticamente si basa sia su magikarp che su geridos magikarp perché ha lo stesso attacco diciamo di ponita quindi lanci una moneta se esce testa previeni tutti i danni previeni tutti i danni dagli attacchi dell'avversario sia danni ed effetti quindi praticamente immortale solamente che ha 30 di vita e fa 10 danni poi il geridos ci può tornare molto utile quando abbiamo tutti i magikarp praticamente morti quindi con due energie in colore fa 50 danni per ogni magikarp nella pila degli scarti quindi si potrebbe fare fino a 150 danni poi però dato che comunque magikarp fa solamente 10 danni ci viene in aiuto la muscol banda poi se uno può scegliere se muscol banda o benda scelta mi piace di più la muscol banda perché comunque questi 20 danni li fa sempre poi abbiamo piplap primplap ed empoleon perché perché ragazzi empoleon fa 20 danni in più a ciascuno dei tuoi pokemon base fa fare 20 danni in più quindi se noi riusciamo a mettere due empoleon in panchina sono 40 danni in più quindi 40 50 dell'attacco di magikarp più la band la muscol banda sono 70 danni che per un magikarp ragazzi non è niente male inoltre se comunque poi non può essere attaccato diventa immortale poi ragazzi abbiamo le varie carte strumento quindi va bella caramella rara cerca sfide compressore lotta perché ci può servire se magari vogliamo subito shottare l'avversario andiamo a buttare via tutti i magikarp ci mettiamo il geridos e andiamo a fare 150 danni a botta questo dipende un po dallo stile di gioco che volete prendere poi abbiamo level per andarci a prendere il victini che è fondamentale in tutti i mazzi troll martelli sub ball per andarci a prendere tutti i pokemon d'acqua presenti nel mio deck super martello che può comunque tornare utile ara dei ricordi che comunque è fondamentale in questo deck perché comunque andremo ad usare gli attacchi di magikarp con geridos quindi abbiamo un geridos che può essere immune agli attacchi dell'avversario solamente che a questo punto l'effetto di empoleon non funzionerà più però comunque sono alla fine sempre 30 danni e non può essere attaccato poi comunque lo andiamo a indebolire a farlo fuori con l'attacco finale di geridos poi n e platana non può mancare così come la regola del team scal energie doppie non messe un paio perché comunque possono sempre servire andiamo a trovare subito un avversario avversario trovato andiamo a vedere un po cosa ci riserva un mazzo fuoco acqua quindi probabilmente non lo so presumo sia un vulcanion presumo anche perché fuoco acqua penso non ce ne siano altri allora diciamo che conviene noi iniziare noi così che ci riusciamo un po a caricare il magikarp ho una bella mano abbiamo magikarp e piplap allora abbiamo già l'energia e la muscolband e siamo già abbastanza a posto vediamo un po con quale pokemon partirà il nostro avversario allora mettiamo piplap in panchina ok a vulcanion e salasol ok molto interessante fortunatamente l'avversario ha debolezza quindi anche se noi abbiamo magikarp questa cosa non è tanto da tenere conto perché con uno sputo muore mette altare solare che i pokemon fuoco e acciaio non hanno debolezza ottimamente allora cosa dobbiamo fare è mettere l'energia la muscolbanda e usare n per vedere se troviamo roba particolare allora perfetto ci esce l'area dei ricordi la level ball sub ball e praticamente abbiamo tutti i nostri pokemon nel giro di due turni allora giochiamo la level ball ci andiamo a prendere victini ottimamente così se attacchiamo riusciamo a difenderci c'è presente questo victini è overpower per i miei deck troll allora c'è da prendere primplap e poi direi di aspettare a prendere empoleon perché se comunque l'avversario mi va a buttare una n ho sprecato un'altra sub ball allora 60 danni testa e direi di non rilanciare e così ci siamo difesi praticamente questo è il classico deck dove attacchi devi sperare iddio che ti esca testa bici da cross vediamo un po cosa scarta un'energia che sicuramente si andrà a riprendere col fabbro perché ne sono sicuro o mette anche turtonator che potrebbe essere un discreto problema perché c'ha quell'attacco che si attacca poi ti fa 80 danni se lo riattacchi è un po' macello però se magikarp fa quello che deve fare o infatti fabbro lo sapevo lo sapevo penso di essere l'unico ad aver fatto un deck magikarp che secondo me vale perché non è male come deck scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere la vostra abbiamo il martello direi di andare a non fare un cazzo ovviamente quindi evolviamo il pip lap e ci andiamo a prendere anche il pre l'empoleon scusate a questo punto direi di usare di usare la recluta così che il nostro volcanion ci pensi due volte ad attaccare croce dai victini no una merda una merda quindi adesso al prossimo turno se lui mette un'energia ci distrugge il magikarp anche se spero non ce l'abbia un'energia ultra può si va a prendere cioè scarta due energie per un salasol gx che non so io a questo punto avrei tenuto l'energia e avrei iniziato a distruggere tutto fabbro ok questo c'ha sempre il fabbro in mano e va a caricare il salasol mette un'energia al volcanion e il nostro magikarp praticamente muore incredibile incredibile non ci ha attaccato super martello sul turtonator empolion ti do ti evolvo cioè praticamente ci ha graziato ora vabbè che c'ho magikarp però adesso muori così impari e esce anche testa cioè non capisco perché l'avversario mi ha graziato io però non sono così gentile cioè mi importo una sega io ti spacco la faccia perché magikarp is better than ductrio e un po cosa vuole fare letta del professore praticamente ha scartato millemila energie non si sa qua quanto può andare avanti allora il salasol potrebbe essere discreto ora noi andiamo a fare andiamo a mettere il piplap così se riusciamo a mettere un altro empolion cioè qua diventa una cosa assurda usiamo platan e le carte sono invisibili incredibile allora level ball ci andiamo a prendere il primplap che non ho più perché è nei premi molto interessante al punto ci prendiamo un magikarp che così se ci muore abbiamo già l'altro di riserva però però ci viene in aiuto la caramella rara che ho visto adesso quindi praticamente con caramella rara riusciamo ad evolvere il piplap in empolion subito non lo evolvo non lo evolvo perché così faccio più danni ve ne faccio 100 100 danni dai il moneta perfetto perfetto cioè 100 danni con magikarp tanta roba oh lui continua a caricare il turtonator e usa la data del centro pokemon giustamente giustamente ci sta sono 60 danni di cura e bici da cross ok si va a scartare una carta e ne pesca un'altra vediamo un po' cosa ha pescato ok caldo bomba e noi ci proteggiamo incredibilmente oh allora a questo punto direi di usare caramella rara su piplap ed evolverlo direttamente in empolion quindi andiamo a fare 40 80 danni in più doppia energia su magikarp così se ci muore questo magikarp il nostro geridos andrà a fare bei danni oppure potremo continuare ad usare l'attacco di magikarp grazie all'altare rilanciamo ed esce testa perfetto tutto va secondo i piani ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace per questo deck perché chi è che ve lo porta chi è che ve lo porta un deck magikarp chi? poi me lo scrivete eh allora entei ix entei ix non mi importa cioè io potrei andare avanti così all'infinito allora un altro vulcanio praticamente non ha neanche carte da per scartare e prendere energie non ha neanche energie da scartare quindi quel vulcanio ne è abbastanza inutile ritira il salasol e mette il turtunetor ok quindi se lui attacca mi fa un po' di danni ok io a questo punto potrei usare elisio e buttargli giù quel salasol tranquillamente andiamo così ciao salasol vai magikarp e andiamogli a buttare giù questa roba e esce croce incredibilmente come sempre oh ora si ora mi piace altre due carte premio e potremo fare un bel cappottone ci esce il priplap che adesso ci è inutile abbiamo anche il compressore lotta quindi nel prossimo turno potremmo anche pensare di andare a scartare gli altri magikarp così che il geridos faccia una devastazione che neanche il team rocket quando fa la sua filastrocca a questo punto direi di mettere la muscolbanda a geridos usare il compressore lotta scartare i due magikarp così sono 100 danni in più con il magikarp attaccare anche se mi muore però comunque l'ho ferito sono 140 danni 140 danni a questo punto se io rimetto se metto il geridos potrebbe morire quindi mettiamo il vittini che ormai non serve più dato che non ho più magikarp allora mettiamo il vittini così se me lo fa fuori metto geridos e gli shotto la mamma tanto lui mi fa 20 danni però se ne metto un'altra fa 60 e scarta due energie quindi niente di che potevo mettere anche geridos ma meglio non rischiare allora vediamo un po' dal nostro avversario cosa va a fare serbatoio nitrico gx praticamente si va a ripescare delle carte ah no assegna a piacimento le energie dagli scarti praticamente aveva 200.000 energie che fai non gliele assegna i tuoi pokemon ovviamente ok se ne assegna uno a lui un'altra a lui io diciamo avrei già acquittato da un po' eh però forse non ha letto l'attacco di geridos ok ragazzi abbiamo vinto perché noi adesso andiamo a ritirare il vittini con la doppia in colore ecco qua ritiriamolo geridos ok doppia in colore mettiamo il geridos e andiamo a fare ira scatenata che fa 50 per ogni magikarp nella pila degli scarti e andiamo a fare 340 danni per chi aveva debolezza ragazzi questo era il deck troll di mankarp spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi un mi piace un commento fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo deck vi voglio ricordare che domenica alle ore 6 di pomeriggio partirà la live da 6 ore quindi ragazzi vi voglio in tanti ci si vede allora prossimamente con un nuovo video ciao e grazie a tutti ciao